La perizia dell'incidente alla funivia del Mottarone, la rottura per corrosione della fune traente, si legge nelle 1500 pagine, è un caso di scuola che con i controlli previsti dalla legge si poteva individuare. Martino Villosio. 1500 pagine di perizia, un lavoro imponente quanto disarmante nelle sue conclusioni. Per scongiurare l'enormità della tragedia del Mottarone sarebbe bastata la banalità di verifiche puntuali ampiamente prescritte dalle normative nel punto più delicato da monitorare in una funivia, ovvero la testa fusa, il cono di acciaio che congiunge la fune traente alla cabina. Definire modelli per valutare le conseguenze proprio sulla testa fusa di sollecitazioni esterne o spostamenti anomali non è facile, scrivono i periti, ma al Mottarone non sarebbe accaduto nulla di imponderabile. A cedere infatti sono stati i fili della fune traente nel punto di attacco alla testa fusa, già spezzati da fatica e corrosione per il 68% da prima del giorno dell'incidente. Un caso di scuola, scrivono i periti, per la cui prevenzione sarebbero bastati controlli adeguati, almeno mensili, elementi che saranno discussi tra un mese nell'incidente probatorio con una mole di allegati, premesse e spiegazioni tecniche, passaggi severi, come quello a proposito dei forchettoni lasciati inseriti sulla cabina in cui sono morte 14 persone e che hanno bloccato i freni di emergenza. Quella di inserire dispositivi di esclusione di sicurezza estrema per un periodo di tempo non limitato per i periti è semplicemente un'idea inaccettabile.